Di nuovo in diretta Su, drink on air Grazie, il suono del Gusto Grazie tette, grazie E signori, noi possiamo dire che il nostro Fran Martini con la nostra bellissima olivetta nera, e vai tac è veramente succulentemente buono, Francesco complimenti facciamo un applauso a Francesco che è stato veramente in gamba, grazie Franci va perfezionato, è stato molto in come è stato Marco, scusa in gamba, in gamba vai, là e il suo, questo bel suo color bel rosso rubino rosso paglierino, grazie Marco per la precisione, poi siamo ah, ok, scusate qui intanto si fa Baldoni, noi si va avanti con la trasmissione, però abbiamo scoperto che c'è, prego, prego, vai, faccia con cura, DJ abbiamo scoperto che il nostro DJ Freedom è un fan accanito di Liveniere, infatti verrà taggato per questo su faccialibro ormai e dato che è un fan accanito ha preso proprio il barattolo pensavo nel bicchiere sembra un bicchiere di vino nero e rosso quello lì vedete dicevamo il nostro bel Fran Martini ricordiamo dentro che ci troviamo del gin dello stock Sherry Brandy che sarebbe del liquore alla marasche nostre nordiche per chi non lo sapesse prego le nostre famose marasche nordiche è della Dalmazia e della Lorena no Dalmazia ma non sono nostre Dalmazia ma è corazza è nostre cioè per me cominciamo per me nella mia biografia straniera non so come è sempre nostra Dalmazia comunque è sempre vicino all'Italia e il nostro Vermouth dry e e poi basta e poi il ghiaccio e l'olive nere con complimenti questa idea te la ruberò per quest'estate ti hai dato l'input avrò piacere perché voglio voglio che insomma venga anche un po' perfezionato nel senso qualche ritocchino qualche ritocchino bisogna farlo andiamo insieme insieme comunque dai brevetto o a lì oppure andiamo dai capi dell'Iba dai al nostro amico al nostro presidente Derek Lee bene a questo punto si Marco ah aspetta signore scusate c'è anche un'altra un'altra cosa che dobbiamo dire che è indifferito così dice fuori onda ci siamo accorti che questo bellissimo zucchero non è zucchero ma è sale colorato da zucchero no credo che sia veleno perché lo zucchero amaro ancora non mi era mai riuscito a ritrovarlo in vita mia però c'è sempre una prima volta sono stato l'unico che è riuscito a comprare lo zucchero amaro è complimenti dite ti ha fregato lo sconto del 50% perché c'è scritto amarezza in zollette ah nel senso è proprio amaro questo zucchero eh lo scrive addosso quando parli amarezza ah 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 è colpa nostra è colpa mia guarda mi rialzovo la responsabilità da da conduzione poi il martedì quando c'è la trasmissione vieni te a calmarla ma va tranquillo perché ora tra l'altro parliamo di calma e andiamo a introdurre il quarto capitolo l'ultimo di questa sera con il cocktail di sopravvivenza francesco questo è un cocktail di sopravvivenza eh però che si usa negli nostri ambiti proprio dietro il banco perché perché diciamo questo perché alcune volte se posso dirlo tranquillamente certo quando ne fai così tanti di drink o c'ha tanta gente e c'hai un blocco mentale non sai come arrampicarti sugli specchi francesco ti partitengo ti do la parola perché come è successo a te una volta come è successo se è successo questa situazione cioè eri imbratta che non ti ricordavi niente e e l'improvvisazione o l'immaginazione insomma alle volte l'ha fatta padrona praticamente un aneddoto breve proprio due parole vengono una brancata di questi ragazzi romani poi se mi va a vedere le mutande ragazzi però posso fa il serio scusatemi non ho capito mi avete guardato le mutande come le potevi comprare le mutande dai mio amore cucciolo intimissimi ma tranquillamente non posso a che dire piazza Europa dei tuoi mondi vabbè vabbè andiamo avanti andiamo avanti allora è roba ragazzi dicevo è roba dei tuoi mondi basta si va a farsi poter allora praticamente vengono questi vengono questi scusa lui è quello che non beve lui è quello che non beve è vero io non bevo e appunto penso se bevevi quel tenzo lì va bene andiamo avanti Francesco avevo questi cazzo di romani avevo questi quelli attila che c'hanno questi cazzo avevo queste clientela da Roma questa brancata di ragazzi che in maniera molto cordiale con la centromano che adesso provo a simulare a noi ci fanno il barista nostro con l'assenzio sei diventato sul ternale l'assenzio e io vado in pratta perché dico ma questo che dico ragazzi però devi tirarmi una mano che è l'assenzio dico sì però cos'altro c'è dentro questi ragazzi uno di questi ragazzi a un certo punto mi fa mi sa che ci mette un po' di quella bottiglia lì mi fa vedere quella bottiglia lì la bottiglia qui che in questo caso non è proprio quella che avevo in bar comunque è succo di limone e a me lì per lì io dico porca mi giudo succo di limone verde succo di limone vabbè con l'assenzio dico che facciamogli un cazzo si può dire dai facciamogli un cazzo di saura e baffanculo qualcosa arriverà insomma via lo facciamo infatti questa sera faremo il nostro assenzio sour due parole per gentilmente mentre francesco prepara il nostro assenzio sour da tette prego tette illustraci che cos'è l'assenzio allora l'assenzio è la musa verde che ispirò e distrusse poeti pittori canzonettisti francesi alla fine del secolo scuro di color verde smeraldo con il 68% di alcol l'assenzio che si ricava da un estratto della pianta omonima affascinò un'intera generazione intellettuali e mendicanti prostitute e geni le conseguenze rapida di natalità e innumerevoli intossicati con lesioni cerebrali i grandi partesi Marco basta con l'assenzio l'assenzio inziatasi nel lontano 1797 quando un medico si lette la formula nazionale a fabbricare NRC per no si concluse dopo la prima guerra mondiale in Francia oggi l'assenzio è preguito per regge in molti paesi non ci sono tutta via contra le nazioni ad un uso limitato dell'estratto di assenzio che serve tra l'altro alla spazio di barri di fuori e per uno è difficile star sempre con questo è difficile anche leggere va bene grazie Tette per la felicitazione vorrei dire di natalità perché secondo me farli con il guarda che ti guarda e grida o ti fa un posto a venuta e andate a farvi benedire tutti quanti no grazie Tette per aver citato il nostro assenso che non tutti lo conoscono oppure lo conosciamo in pochi ma chi lo conosce non sa nemmeno giusto la parola eccetera eccetera fa paura quindi stateci attenti con l'assenzio e bevete le risposte volevo ricordare la scena bellissima del Moulin Rouge di Kylie Minogue questa patina verde che fa I'm the green fairy lovely ah che bello Franci cosa stai facendo allora perché i sour si fanno con il succo di limone e siamo d'accordo però visto che il mercato ancora ce lo consente abbiamo dei lime e di conseguenza andiamo a spremere direttamente il lime la vai tac e vai un'altra quindi un lime quindi un lime spremuto si eccoci qua dai dai tre ai quattro giù facciamo cinque se sono belli lime sugosi come mi piace a me e questo lo lasciamo dentro poi intanto DJ si sta strozzando con l'olive che si sta ingozzando andiamo ad aggiungere la nostra bella fatina verde la nostra bella fatina verde che stasera ci andrò a provare ma scusami e vai circa un un 5cl un 5 sì perché se andiamo oltre poi va bene ragazzi va bene dai DJ tutto a posto non mi fa preoccupare vuoi una pacca nelle spalle mi fa un piacere ecco detto proprio pari 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 grande DJ e e via e ma Spois abbiamo messo l'aspro ora l'amaro e ora mettiamo il dolce questa bottiglia è abbastanza zuccherosa è abbastanza pochera è cristallizzata quindi diciamo che ha il suo perché ok e adesso andiamo è mio dai volevo partecipare anche io questa serata vi volevo fare vedere ciao insomma l'esperto qui comunque si sempre si l'esperto che entri l'esperto che c'è che c'è l'aiuto del pubblico prego vale bene che manca è bellissimo c'è chi c'è chi c'è chi c'è il portaporsi c'è chi c'è chi c'è il portaporsi io c'è ma invece c'è la pretina ragazzi mi è meglio da tutto io vi dico una cosa una volta per shakerare uno shakerato ho inondato il bar ve lo dico tranquillamente col shaker alessi bellissimo si ha fatto soffitto dietro frigorifero bancone ribalzato ripresa al volo io ho stappato spumante che bello mamma mia è proprio il paglierino questo questo è il paglierino questo è giallo verde acido verde fosfore verde non lo so il portaporto è una decorazione però visto che fa il contrasto mi ci metti una ciliegina dentro dai perché no e a questo punto anche una fetta d'arancia perché dai tanto per andare così in contotendenza che cazzo c'entra l'arancia ma c'entra sempre è una gruma è una gruma e va bene così e la ciliegina è un po' come la ciliegina sull'arrosto la ciliegina è come è come il come il tacchino che sta sempre bene con il tacchino basta per cazzare bene franci sei fantastico signori vi lasciamo di nuovo finiamo un attimino di degustare anzi iniziamo a degustare poi lo finiremo sicuramente nella pausa dj a te l'onore a frappè qui sul su ragazzi vabbè drink on air a tra poco ciao ciao oh ciao 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 ciao